eh, però vuole Mirate a chi è mirata Non so, qua Qui campi non ci riuso di andare guarda Allora, girate un attimo Guardate un attimo, mi hai fatto che ti è proprio andato a mare reet guardcare con bande Eh già addio Guarda ora la azienda reddita, da un cazzo culo impressionante Vai, vai girare le manne Però questa è la cosa molto più Mira, mira, che carta Ma comunque mi dovete fare fare la